Non vuole essere assolutamente negazionismo o non capire la difficoltà che il mondo sta vivendo, ma è semplicemente ritagliarsi un momento sereno. Ma manco poi socializzare per non andare a prendere argomenti. Perché ovviamente sono tanti mesi che si parla sempre dello stesso argomento, quindi abbiamo scelto di alleggerire noi esercenti e i nostri clienti alleggerendo tutta questa situazione, perché pensiamo che affrontarla con un sorriso... Se si porterà via il sorriso sarà tosta, però un po' di definiti, potete dire male...